Bene, buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi stamattina. A questo tavolo doveva sedersi anche, dove sono saluto io, il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin che però ieri sera molto tardi ha telefonato qui a Rimini scusandosi per non poter essere qui oggi e per le ragioni che potete immaginare. Resta però il fatto che dopo che in primavera il Ministro Lorenzin aveva raccolto dal Professore Pugliese il racconto, l'esperienza, la testimonianza di cosa ha fatto Amis Academy e poi ve lo racconterà in dettaglio. Il Professore racconterà tra qualche istante anche a voi, a tutti noi, quello che ha raccontato il Ministro. Il Ministro era stato molto molto interessato a che questo racconto questa mattina avvenisse anche in sua presenza perché la testimonianza diventasse pubblica. Il momento pubblico c'è, dipende da noi, il Professore Pugliese e il Professore Balei sono qui perché questo momento avvenga così che poi con il Ministro sia possibile continuare il discorso, la progettualità che il Professor Pugliese ha proposto e che ci racconterà stamattina con, corroborato dall'esperienza del Professor Balei. Per la verità, questa mattina non siamo qui per ragionare su un'emergenza molto diversa da quella che purtroppo ha colpito nelle ultime ore il Centro Italia. L'emergenza, credo che poi sia il Professore Pugliese che il Professore Balei lo racconteranno con la dovuta, con la con la durezza che molto spesso i chirurghi utilizzano nel loro lavoro. L'emergenza è questa, ogni giorno bisogna cercare di non morire, ogni giorno bisogna cercare di non uccidere, ogni giorno bisogna utilizzare tutte le conoscenze e tutte le tecnologie in qualsiasi campo per salvare e arricchire la vita dell'uomo. che si tratti di costruire case antisismiche, che si tratti di eseguire un intervento chirurgico riducendo al minimo, utilizzando al massimo le possibilità della chirurgia avanzata, in particolare di quella endoscopica, la paroscopica, la chirurgia che sta spostando, che ha spostato in avanti le frontiere della terapia chirurgica, il massimo, con il minimo dei rischi, perché le alte tecnologie o le alte professionalità, quella della chirurgia tecnologica attuale è tale, può essere d'aiuto alla vita delle persone solamente se è effettuata con tutte le best practice, come si dice, le migliori condizioni per cui sia utile e non rischiosa per la vita dell'uomo. Questo è ciò di cui io mi taccio, ciò di cui il professor Pugliese e il professor Belei ci racconteranno stamattina e ripeto, anche se il momento dà a tutti da pensare, ma siamo dentro le emozioni e le riflessioni che ha provocato in tutti noi il terremoto nel centro Italia. Io ora lascio, do subito la parola al professor Pugliese, che ha... Prima lui? No, il professor Belei è il professor Belei. No, il professor Belei è il professor Belei. Ok. Ah no, è... In assenza del ministro giustamente decidono i relatori. e l'ospite... I think that you can sit here... No, I need to move the slides. Buongiorno a tutti. È un grandissimo piacere per me essere qui con voi oggi e parlarvi a questo incontro, al meeting per l'amicizia tra i popoli. Come avete potuto ascoltare, vi parlerò della laparoscopia e della chirurgia avanzata. Io effettuo i miei interventi in un quartiere proprio al di fuori di Londra. Qui vedete il mio reparto, dove noi insegniamo chirurgia laparoscopica. La chirurgia laparoscopica è una chirurgia eseguita senza effettuare tagli importanti, ingenti nell'addome, applicando dei piccoli buchi di circa un centimetro o mezzo centimetro di diametro. Questo fa sì che il paziente possa affrontare delle grosse operazioni, tuttavia con il beneficio di soffrire di meno e di riprendere molto più velocemente. Per eseguire la chirurgia laparoscopica è molto importante che i giovani chirurghi siano formati in questo tipo di procedura. Per quanto riguarda la formazione, oltre alla formazione, noi insegniamo loro le tecniche particolari di questo tipo di procedura. E infine, per eseguire la laparoscopia, occorre una tecnologia all'avanguardia, affinché noi possiamo svolgere la laparoscopia al meglio, garantendo al paziente i risultati migliori. Quindi, anzitutto, occorre l'istruzione, occorre un adeguato insegnamento, occorre l'attrezzatura per poter svolgere correttamente la procedura. È molto importante acquisire esperienza prima di effettuare un intervento sul paziente. E infine, vogliamo sempre migliorare e aprire, ampliare il campo, cercando di gettare uno sguardo su possibili nuove tecnologie. Per eseguire questo tipo di chirurgia, dobbiamo avere dei centri all'avanguardia, come il mio, e anche come il centro del professor Pugliese. Conduciamo corsi, insegniamo ad avere un adeguato coordinamento mano-occhio, facciamo della chirurgia simulata, facciamo simulazioni. E la cosa più importante è quella di eseguire una chirurgia live, che può avvenire, per esempio, con la telemedicina, con la realtà virtuale, attraverso internet, o attraverso altre modalità, come per esempio i DVD o i CD-ROM. Per eseguire questo tipo di chirurgia, dobbiamo essere in grado di operare attraverso delle piccolissime incisioni. E questo tipo di chirurgia è stata inizialmente avviata nell'88, 1988. Tuttavia, all'epoca non c'era una formazione formale. E' accaduto un caso tragico a Londra nel 1992. In quel caso, la moglie di una personalità nota ha avuto un intervento di laparoscopia eseguito da una persona, da un medico che non era formato. E purtroppo è deceduta poco dopo. E quindi al caso è stata data tanta pubblicità, se ne è parlato molto. Perché appunto la personalità, il marito della signora era noto. E anche per il fatto che il medico che aveva eseguito l'intervento non era adeguatamente formato. Quindi il governo britannico decise di istituire tre centri di formazione nazionale per l'insegnamento di questo tipo di chirurgia. E io sono stato fortunato perché sono stato scelto come il responsabile di uno di questi tre centri. La necessità pertanto è quella di rendersi conto del fatto che c'è bisogno di questi centri di formazione. Occorre apprendere come condurre, come eseguire la laparoscopia per i benefici al paziente. Quindi minor sofferenza, meno complicanze. Minore incidenza del tasso di complicanze. E miglior recupero. E inoltre risparmi in termini di risorse finanziarie per il Paese. Il mio reparto è stato costituito con una dotazione di 2 milioni di sterline finanziate dal governo centrale, in parte finanziate dall'amministrazione del Servizio Sanitario Nazionale e dalla Fondazione Wolfson. L'idea era di creare tre centri di eccellenza dove altri medici potessero apprendere. Quindi il mio ospedale, il Royal Sarai County Hospital e il Royal College of Surgeons. Il mio centro ha iniziato la sua attività nel 1995. È stato inaugurato dall'allora Ministro della Sanità. Ha condotto le sue attività per circa dieci anni. E poi è stato creato, è costituito un nuovo ospedale, un nuovo centro di formazione nel 2005, con finanziamenti provenienti dal governo, dal settore. E qui vedete immagini dell'inaugurazione ufficiale. Vedete che c'è anche il professor Pugliese che ha partecipato a quell'evento, assieme a tanti altri eminenti chirurghi provenienti da tutta Europa. Nel mio reparto conduciamo dei corsi riconosciuti dal Royal College of Surgeons, quindi dal collegio dei chirurghi britannici. Siamo un centro di eccellenza. Abbiamo delle strutture all'avanguardia, quindi c'è una sala, un'aula per i corsi, c'è una sala conferenze e ci sono delle tecnologie per videoconferenza, audioconferenza e altre tecnologie. È molto importante che i giovani chirurghi e i chirurghi che ancora non sono adeguatamente formati a fare questa procedura lo siano. E qui vedete il nostro laboratorio, nel quale è possibile insegnare ai chirurghi come eseguire le procedure prima di intervenire direttamente sui pazienti. Come potete vedere c'è un telescopio con una luce e ci sono delle strumentazioni che effettivamente sono quelle che eseguono l'intervento. Questo non è un dottore, non è un medico, è il duca del Kent, il cugino della regina, che ci è venuto a visitare. Probabilmente conoscete questa persona, Boris Johnson, che è colui che ha condotto la campagna Brexit e che è adesso divenuto il nostro ministro degli esteri, il quale egli stesso ha fatto visita al nostro centro. C'è bisogno di strutture in cui è possibile tenere delle conferenze, in cui si possono ottenere informazioni, per esempio, da altri centri del mondo. Occorrono importanti finanziamenti, infatti abbiamo circa 65 corsi l'anno, a cui partecipano circa mille delegati, forse più di mille delegati. Inoltre abbiamo delle fellowship, abbiamo per esempio dei finanziamenti da alcune associazioni e ci sono dei collegamenti internazionali, per esempio in telemedicina. E cosa molto importante, abbiamo degli ottimi rapporti con il settore che ci supporta notevolmente. Il reparto è collegato alle principali sale operatorie, al reparto endoscopico e radiologico, all'unità di chirurgia in Dai Hospital, al centro medico dei post laureati. Con queste informazioni noi siamo in grado di, per così dire, di sfonderlo in tutto il mondo, quindi non solo siamo in grado di dare queste informazioni a queste persone, ma anche loro possono insegnare e mandare informazioni a noi. Questa è una modalità di apprendimento ed insegnamento ottima. Quindi il nostro sistema di apprendimento prevede varie modalità, seminari, conferenze, ad esempio, e nel resto d'Europa ci sono centri come questo, per esempio a Strasburgo l'IRCAD e il professor Pugliese ha il suo istituto a Milano. Il ciclo di apprendimento è molto importante. I chirurghi e i dottori iniziano e spesso non hanno idea di questo tipo di chirurgie. Bisogna renderli consapevoli di ciò che occorre, imparino. E quindi, pertanto, si parla di varie fasi, la competenza, la padronanza, fase nella quale il chirurgo è in grado di eseguire la tecnica senza neanche doverci pensare. La tecnologia moderna è molto importante, molto utile. Possiamo diffondere questo tipo di conoscenze dove possiamo simulare interventi chirurgici, quindi anziché operare direttamente sulle persone, possiamo operare, per esempio, su delle entità, degli oggetti inanimati o sugli animali. In Gran Bretagna e in Inghilterra abbiamo un sistema che non è presente in Italia in base al quale, per poter formare qualcuno, il giovane chirurgo deve anzitutto assistere alle operazioni. Successivamente entra in laboratorio e fa simulazioni, esegui simulazioni, partecipa a corsi. Successivamente prende parte a un'operazione sotto la supervisione di qualcun altro, poi successivamente esegue un'operazione sempre sotto la supervisione di qualcun altro e poi è in grado di eseguire un intervento da solo. E questo intervento deve essere compiuto in maniera soddisfacente. La valutazione dell'operazione avviene sulla base di criteri prestabiliti e alla fine ci sono degli esami e viene rilasciato un certificato relativo al completamento di questa formazione. Questo programma di formazione formale è prestabilito sia per i chirurghi, per i specialisti e per i tirocinanti che vengono certificati quando appunto il percorso è completato. Vengono certificate le esperienze e le competenze. Questi sono i due aspetti più importanti che vengono certificati. Le persone possono poi divenire indipendenti, chirurghi indipendenti, in grado di eseguire operazioni in tutta sicurezza sui pazienti. Il programma chirurgico è un programma che è molto importante per la Gran Bretagna e questo programma è un programma che viene elargito per esempio tramite il sito web attraverso un portafoglio di contenuti web e tutti i tirocinanti, gli specializzanti e i formatori nei Regioni Uniti sono registrati. La valutazione avviene per esempio relativamente alle operazioni sulla base di una relazione da parte dei supervisori attraverso una valutazione annuale che va a valutare l'esperienza e gli esami. C'è una serie di interventi che le persone devono eseguire, quindi almeno 1600 interventi chirurgici complessivamente in una serie di diverse procedure. Quindi per esempio cose semplici come l'ernia o la cistifellea o cose più importanti, quindi la chirurgia antiriflesso o operazioni intestinali, interventi intestinali e questo viene appunto insegnato agli specializzanti nel corso di questo programma di formazione. La competenza chirurgica viene dimostrata e comprovata attraverso una serie di valutazioni. Ci sono almeno tre valutazioni che vengono rilasciate da diversi chirurghi che devono essere presentate. quindi ciascuna delle presentazioni e delle procedure riguarda sia la chirurgia generale che la chirurgia specialistica. E questo vi fa vedere il livello al quale i medici devono conformarsi, i giovani specializzanti devono arrivare al livello 4 in gran parte di queste procedure. E ci sono alcune procedure specialistiche, per alcune procedure specialistiche è sufficiente il livello 3. e vedete poi in basso interventi più complessi come la dissezione dell'intestino, eccetera. Occorre inoltre formare i formatori, gli specialisti, per cui ci sono dei programmi specialistici. Questo in particolare è per la chirurgia intestinale, per la chirurgia del colon retto. È un programma finanziato dal governo britannico vedete indicati in rosso i diversi centri di formazione e la Scozza e il Galles hanno un sistema diverso da quello dell'Inghilterra. Per esempio, per la chirurgia del colon retto anzitutto c'è la selezione di una abilità innata, cioè il fatto che i formatori siano in grado di fare questo tipo di procedure, poi la competenza, il fatto che la riescano ad eseguire in maniera corretta e bene e poi c'è una formazione con supervisione e c'è una progressione della formazione. Il formatore poi assolve ad obblighi di formazione indipendente e alla fine c'è una ricertificazione. l'obiettivo e la progettazione per così dire del sistema del punteggio che queste persone ottengono rappresenta il livello della formazione alla quale arrivano. Quindi non è una semplice impressione ma una vera è propria realtà. E c'è la cosiddetta Global Assessment Scale la cosiddetta GAS che indica le mansioni i compiti generici i commenti e le descrizioni la descrizione di questi singoli compiti. Infine nella chirurgia del colon retto i giovani chirurghi i specializzanti devono svolgere tre operazioni tre interventi autonomamente ci sono tre video che sono completamente non modificati vengono analizzati da tre specialisti e se il risultato è soddisfacente questo chirurgo il chirurgo in oggetto viene certificato e può esercitare la laparoscopia poi c'è un'altra procedura procedura LCAT laddove questa sigla sta per strumento di valutazione della competenza della laparoscopia per gli interventi al colon retto è un programma efficace questo è ciò che noi facciamo in Gran Bretagna c'è questo programma per il miglioramento della ripresa del paziente che indica appunto che i pazienti sono adeguatamente preparati per cui solitamente restano in ospedale massimo per circa due giorni la colonna a sinistra cerchiata in blu fa riferimento al nostro reparto vedete che i pazienti sono stati sottoposti a questi interventi importanti del colon retto e solitamente lasciano l'ospedale dopo quattro giorni a destra in alto vedete invece il tasso di re-ospedalizzazione che è abbastanza basso è molto basso in altri termini sebbene la ripresa sia veloce questi pazienti vanno a casa presto ma stanno bene in basso a sinistra vedete che i pazienti questi pazienti che a volte sono pazienti obesi sovrappeso anche se spesso possono usufruire beneficiare di questo tipo di chirurgia stanno bene e sono pazienti che hanno un punteggio ASA superiore a 3 questo è un paziente il video di un paziente viene chiesto al paziente di toccarsi le punte dai piedi il commento del medico è molto positivo questo paziente è stato sottoposto a un intervento e la paroscopia fra i più complicati di resezione anteriore dell'intestino e con un programma di ripresa vedete che 24 ore dopo l'intervento sta benissimo quindi in questo caso il paziente non sta a letto e non è soggetto in qualche maniera ad altri problemi che a volte possono capitare come la polmonite o le trombosi eccetera ma si riprende molto molto bene quindi per concludere mi sento di dire che dei centri di formazione in la paroscopia che hanno avuto successo sono stati costituiti in Gran Bretagna con il finanziamento del governo forniamo i consulenti e formiamo gli specializzanti è molto molto importante che la formazione in la paroscopia consenta di avere interventi chirurgici più sicuri una ripresa più rapida del paziente come avete potuto vedere ed è altresì molto importante che i reparti come quello del professor Pugliese abbiano pertanto il supporto del governo il supporto nazionale per poter realizzare quei tipi di reparti che noi attualmente abbiamo in Gran Bretagna e quello che vorrei dirvi come potenziali pazienti ciò che secondo me è positivo per i potenziali pazienti è che la laparoscopia fa bene anche per voi quindi bisogna far sì che tutti questi centri siano costituiti il prima possibile in Italia grazie credo che certamente invieremo le slide del professor Bellari al ministro ora però il professor Bellari ha come come si è alzato la palla nel senso che nell'ultima mail nell'ultima slide scusate era citata l'Italia in Italia c'è il ex academy del professor Pugliese buongiorno a tutti vorrei ringraziare gli organizzatori del meeting che mi avevano dato questa opportunità di parlare di formazione e dovevo essere di fronte al ministro cioè le istituzioni mi dispiace per quel successo che ha impedito questo spero di avere l'occasione di presentare al ministro la nostra esperienza perché credo che dalle esperienze positive si può trarre un esempio e la possibilità di migliorare il sistema altrimenti il sistema immagina le cose ma non sa la realtà di ciò che è utile e perché voglio parlare di formazione perché ritengo che sia una questione cruciale ma veramente cruciale perché nonostante i grandi successi della chirurgia i benefici per i pazienti noi vedremo come l'incidenza di lesioni con una elevata mortalità che sono causa di atti medici sono talmente alti che impressionano e quindi il problema di migliorare è un problema fondamentale guardiamo questi dati che sono dati veramente impressionanti non hanno avuto vergogna di pubblicarli in America uno della Harvard School of Public Health un milione di incidenti 129.000 morti la prima causa di morte per trauma John Hopkins University non li ho fatti io li hanno pubblicati loro terza causa di morte in assoluto dopo le malattie cardiache che è il cancro 251.000 non è un terremoto non è voglio dire soltanto quello che ne abbiamo drammatico in questo momento che sono le guerre le guerre anche come si combattono adesso di terrorismo è un dramma che dobbiamo capire però perché non possiamo buttare a mare il positivo che abbiamo perché i vantaggi della tecnologia di quello e della medicina sono sotto gli occhi di tutti ma questa è una realtà 10% dei ricoveri sono esito di pregressa chirurgia un costo umano incredibile un costo economico incredibile non metto i dati italiani che mi dicono che il costo economico in Italia degli incidenti diciamo medici sale a circa 11 miliardi di euro che sono quasi il 9% dell'investimento totale della sanità poi però mancano finanziamenti per tante cose positive come noi vedremo e allora come migliorare questa è una domanda che gli uomini si fanno sempre non possono non farsi sono due strade una è la ricerca l'altra la formazione e vedremo se queste due strade viaggiano assieme oppure separate perché migliorare attraverso la ricerca vuol dire passare da quello che era la realtà del passato si diceva grande chirurgo grande taglio vi ricordate tutti noi l'abbiamo detto però grande chirurgo grande taglio voleva dire che il primo atto della chirurgia era un trauma un grande trauma che noi dovevamo procurare per poter accedere e per poter provare a curare i pazienti curare i pazienti anche ma questo aveva come conseguenze come conseguenze non colpose come conseguenze che riferivavano direttamente dal trauma per esempio per esempio i laparoceli che trascurati diventavano quel grosso laparoceli che è lì in mezzo e poi le aderenze perché un gran dettaglio vuol dire sporre l'addome quindi tutte le sindrome da occlusione intestinale che danno una percentuale di riricoveri elevatissima quindi la ricerca si muove vogliamo migliorarci come possiamo ridurre questo primo trauma che noi stessi diamo è per questo che la tecnologia la ricerca evolve e va verso la mini invasività cioè usa la tecnologia per migliorare questo aspetto e la mini invasività come ci ha spiegato anche prima certamente ha ridotto l'incidenza di quei grandi laparoceli e i costi quindi riricovere i costi di quello ma non si ferma evolve verso una minora ancora invasività la single port che vuol dire una piccola incisione per fare tutto e quindi un ulteriore vantaggio ma non si ferma ancora perché ha verso la noz cioè la possibilità di utilizzare i canali naturali nel 2009 e 2010 noi siamo stati i primi in Italia e siamo stati tra i primi al mondo a operare in diretta e far vedere la noz senza cicatrici cioè per le vie naturali credo che in Italia siamo stati gli unici fare la conegistectomia transgastrica senza nessuna incisione ma detto questo vuol dire che la tecnologia si muove per offrire una positività un'utilità ai pazienti perché non è solo la riduzione di quelle lesioni ma questo è quello che ci ha fatto vedere prima il professor Bailey minore immunodepressione e una più rapida ripresa avete visto quel paziente che dopo un giorno va a casa dopo una resezione anteriore del retto meno perdi tematiche e una serie di vantaggi che sono riconosciuti è un fatto l'utilità di questa tecnologia ma che evoluzione per la formazione sono andati insieme l'uso la tecnologia e la formazione cos'era la formazione da dove si parte parliamo dal 1800 il paradigma era si one do one teach one cioè vuol dire guarda una volta poi fai una volta e poi teach insegna ma non solo gli altri insegna a te stesso torna a casa e esercitati pensate su chi ci si può esercitare c'è pratica sui pazienti ma dopo 200 anni è cambiato qualcosa secondo voi nella formazione il paradigma rimanuale che non è un paradigma che non è stato utile si usa la tecnologia del momento di comunicazione vedete una sala di videoconferenze con tanti schermi in cui uno può accedere e guardare con molta chiarezza gli interventi che vengono fatti va bene però dopo cosa deve fare è tornare a casa ed esercitarsi nelle proprie sale operatorie ecco perché avete visto quelle immagini dell'America l'Italia ne ha altre tanti quel caso che ha presentato Bailey perché era una persona importante quelle delle persone non importanti non sono conosciuti chiaro ma vedete a fianco tutto il fiume la grandezza il numero di tecnologie che sono state necessarie per portare all'evoluzione della chirurgia quindi la ricerca ci ha dato gli strumenti sono strumenti che vanno usati dagli uomini quindi vanno appresi ma in Italia abbiamo avuto un processo regolato di apprendimento per questo no gli unici che hanno investito per cercare di formarci sono state le aziende leader del settore perché avevano interesse per farlo volevano che la loro tecnologia fosse usata adeguatamente e quindi io sono stato uno di quelli che ne ha approfittato perché hanno costituito due centri uno in Francia uno in Germania ad Hamburgo e io sono stato più volte lì allora per fare training e poi per insegnare per educare nel training quindi questo cosa vuol dire? vuol dire che i due sistemi ricerca e quindi tecnologia e formazione sono scollati completamente sono andati per due strade separate ma noi sappiamo che se vogliamo acquisire veramente i vantaggi di quello che la tecnologia ci porta bisogna che il sistema i viaggi insieme se separato non può dare i frutti che ci si aspetta ma anzi amplifica i rischi infatti come è stato successo con l'uso della tecnologia che erano stati amplificati i rischi e quindi alcuni scettici cosa hanno detto? vedi? i vantaggi sono bilanciati dai rischi e dai danni quindi buttiamo a mare ciò che potrebbe essere utile quindi si è opposto allo sviluppo e c'è stata una difficoltà nella diffusione delle procedure e sono stati segnalati grandissimi rischi e grandissime lesioni che ha bloccato tutto allora allora il problema è prendiamo questo esempio virtuoso 1930 1930 nel volo aereo questo modellino banale ha ridotto gli incidenzi aerei in modo drammatico e poi però si è evoluto questo è il simulatore attuale non c'è pilota che non debba passare attraverso un'esercitazione sul simulatore per un tempo e per un numero di ore adeguato prima di entrare in cabina di pilotaggio il volo aereo è diventato il mezzo di trasporto più sicuro in assoluto al mondo perché hanno fatto un training perché era importante altrimenti nessuno prendeva l'aereo va bene ma voi vi fate operare lo stesso senza sapere che vi opera anche io io però lo so lo scelgo modelli di training disponibili allora anche in chirurgia qualcosina capite è fatto perché la ricerca va avanti lo stesso cerca di rispondere a un bisogno e cerca e quindi simulatori semplici ci ha fatto vedere Bailey tutto il centro e gli simulatori ma non solo simulatori virtuali che non raggiungono il livello di eccellenza del simulatore dei piloti ma col tempo si arriverà perché il clone virtuale è una ricerca che anche noi su cui stiamo lavorando e quindi si continuerà a sviluppare possibilità di formazioni idonee però è già un passo avanti e poi ci sono addirittura vedete questi sono cadaveri sintetici dove si può studiare perché non è che si può avere un'infinità di cadavere da utilizzare quindi cadaveri sintetici l'intelligenza dell'uomo si muove e poi c'è il modello animale che a tutt'oggi è quello più efficiente ed efficace nel sistema della formazione ma voi credete che questi strumenti formativi sono usati è questo che voglio dire alle istituzioni e perché non sono usati perché dovrebbero essere integrati nel processo formativo che è il processo così noi chiamiamo standard che è quello che dice guarda ruba il mestiere ma guarda e poi fai un percorso di training di training come guidato e tutorato come ci ha fatto vedere e in Inghilterra fanno perché sono persone molto serie secondo me ma non bastano non basta guardare rubare il mestiere bisogna tutta questa tecnologia imparare a utilizzarla cioè integrarla completamente nel processo formativo allora il primo che ha intuito questo è che è stato Jacques Marescot che fin dal 1994 quando eravamo all'inizio della chirurgia laporoscopica avanzata lui l'ha intuito ha trovato i finanziamenti pubblici e privati per costruire un centro dove si potesse avere un setup completo di quello che serviva cioè tutta la tradizione più tutta l'innovazione dove potersi esercitare ecco io ho visitato più volte questo centro ho anche portato con me il dottor Cannatelli allora direttore generale di Niguarda perché si convincesse della necessità che io continuavo ad esprimere anche per l'Italia e poi lì ho incontrato anche il dottor Forgione che lavorava da cinque anni all'IRCAD e che ho invitato a venire con me a Milano a Niguarda perché nel desiderio di costruire un centro simile volevo che collaborasse con me perché era stato tanto tempo lì e lui ha accettato da nove anni lavoro a Niguarda e adesso è direttore scientifico del centro ma poi ho incontrato anche il professor Beli che ci ha appena presentato l'esperienza del matto anche al matto sono stato più volte e con Beli proprio per la comune passione alla formazione è nata un'amicizia e una collaborazione che dura tuttora come vedrete anche come possibilità lui partecipa sempre ai nostri corsi lo ringrazio anche qui pubblicamente e allora sono ritornati in Italia prendendo spunto dal loro esempio accanitamente deciso a lavorare perché un centro simile ci fosse anche in Italia e in particolare in Lombardia perché io continuavo a dire ai nostri politici se non si fa in Lombardia dove si fa? non si fa da nessuna parte e soprattutto cosa bisognava fare? bisognava rianimare il sistema a trovare le condizioni ho fondato una fondazione non profita a questo scopo che ha potuto coagulare i finanziamenti di molti privati e bisognava convincere le istituzioni ringrazio Cannatelli perché è stato il primo a supportare questa cosa e quindi con l'aiuto della regione Lombardia l'idea è diventato un progetto il progetto ha trovato i finanziamenti nella collaborazione pubblico privato e con un investimento di 12 milioni di euro è stato possibile costruire all'Ems Academy una struttura di 2500 metri quadri che ha tutti i laboratori che poi vi farò vedere dove è possibile finalmente avere tutti i setup per il lavoro e per la formazione nel 2010 abbiamo inaugurato il centro e alla mattina abbiamo inaugurato dal punto di vista istituzionale il centro con tutte le autorità ma per dare un segnale di efficienza di desiderio vero di essere attivi ho voluto che nel pomeriggio iniziassimo con il primo corso e quindi rispondendo alle critiche di alcuni giornali che hanno detto che avevamo fatto uno show elettorale perché guarda caso senza saperlo dopo un mese ci dovevano essere le elezioni ovviamente le istituzioni hanno invitati e mi hanno accusato di fare uno show elettorale questa è l'Italia questo è il programma educativo dell'Ems Academy vedete rimane ciò che è sempre stato utile la sessione teorica la possibilità di confrontarsi con esperti di discutere dei percorsi diagnostici delle indicazioni chirurgiche dei risultati che come ci ha fatto vedere che sono importanti e ci dicono cosa stiamo facendo ma anche la possibilità di vedere seguite da esperti la chirurgia allo stato dell'arte cioè come va fatta e poi subito dopo non mando a casa la gente dicendo hai visto e per di più hai visto quanto sono bravo dando soddisfazione al narcisismo dei chirurghi anche mio ho detto no questo non basta bisogna permettere che subito inizi l'apprendimento cioè la pratica l'esercizio la palestra quindi una pratica sui modelli inanimati pratica sui simulatori virtuali avanzati la pratica in laboratorio sul modello animale anche la pratica sul cadavere in alcuni casi facciamo dei corsi il telementoring cioè la possibilità quando uno ha partecipato ai corsi di andare a casa e di trovare conforto nell'essere tutorato a distanza utilizzando la tecnologia che adesso noi abbiamo quindi la possibilità di mandare tutori nei loro centri per sostenerle e aiutarle all'inizio e poi noi facciamo quello che in Italia non esiste la possibilità di offrire una valutazione dell'apprendimento perché in Italia quel che c'è in Inghilterra non c'è diciamocelo chiaro allora abbiamo oltre 200 docenti nazionali e internazionali che collaborano ai corsi e che portano la loro esperienza in tutto questo e io devo ringraziarli per la loro generosità perché si tratta di generosità e la loro responsabilità perché si sentono responsabili della sicurezza di tutti i pazienti dovunque se siano che si ottene attraverso la formazione e la sicurezza che noi offriamo e quindi ringrazio anche Beli che è sempre lì con noi dopodiché c'è una rete internazionale che collabora vedete questo è un esempio a sinistra c'è Inoue che è un grande chirurgo giapponese endoscopista che ha ideato una procedura mini-invasiva per eseguire un intervento che una volta si faceva con un grande taglio poi la paroscopia senza nessun taglio perché lui ha ideato una procedura endoscopica era a Strasburgo in un corso noi eravamo in un corso a Milano all'IRCAD ci siamo collegati per poter seguire la procedura spiegata direttamente da lui e questa è una rete e poi la rete europea funziona anche col matto in Inglaterra noi da Niguarda seguivamo l'intervento di Sean Preston che era il primo un allievo del professor Bailey e adesso è responsabile che eseguiva una procedura lì ci sono poi soprattutto diciamo il matto e l'IRCAD ma noi siamo collegati con una rete europea che va non soltanto da lì ma alla Russia all'America e via dicendo quindi finalmente quello che dicevo i laboratori i laboratori dove ci si esercita subito le tecniche di sutura nel dry lab dove ci sono modelli inanimati modelli particolari virtuali dove si può appunto esercitarsi e subito dopo quello che chiamo l'esercizio più importante la possibilità di eseguire interventi su materia vivente cioè l'animale in modo controllato in anestesia generale rispettando tutte le regole della legge perché si possa fare un intervento affrontare tutte le complicanze eventuali che possono essere tutorati da esperti ci sono molti primari che sono della scuola che adesso aiutano e sostengono questo processo di tutoraggio dei di coloro dei partecipanti ai corsi ma non basta anche questo perché come dicevo quelle di prima sono delle vere palestre esiste nella esperienza dell'uomo un fare che non abbia bisogno di un esercizio in tutti i campi sono finite le olimpiadi senza grande esercitazione nessuno otterrebbe risultati va in montagna senza uno che si alleni non otterrebbe risultati e se uno deve mettere le mani sull'uomo non deve allenarsi a metterle bene ditemi voi io credo che è importante che gli diamo di strumento ai mezzi perché si possa veramente allenare quelle sono una palestra e poi se uno è a distanza possiamo dare il tutore può avere il tutore sotto mano no dobbiamo usare la tecnologia da questo punto di vista è un'intelligenza per esempio questo è un chirurgo russo che è stato da noi Vladimir è stato da noi per quattro mesi ha frequentato i corsi ha imparato anche a usare il telementoring la tecnologia e le prime volte che lui ha fatto i due primi tumori del colon era guidato da me da Milano e per lui era una sicurezza perché io potevo segnare sul suo secondo schermo fermati lì spostati di un centimetro che è meglio perché lì sotto potresti fare dei danni e quindi questo è importante il telementoring ma non ci basta perché mediamente durante i nostri corsi si collegano almeno 30 paesi con numerosi chirurghi che possono avere anche un feedback per quello che noi facciamo con un canale webinar e poi la piattaforma il learning che raccoglie tutta la ricchezza dei corsi che c'è che quindi può essere rivisitata nel tempo quando uno ne sente la necessità abbiamo avuto 3500 partecipanti da oltre 40 paesi poi ci sono altri corsi non solo la chirurgia tutte le specialità interventistiche hanno bisogno di esercitarsi c'è il corso sul trauma è un corso atomo un corso che è itinerante in America va bene parte dalla loro lì siamo stati i primi in Europa ad avere trasferito questo corso itinerante con Tom Scalea che è venuto da noi a presentare questo corso che è secondo me molto bello e poi tanti altri corsi ma gli ultimi che abbiamo acquisito sono quelli di endoscopia operativa mi sono accorto che i giovani endoscopisti che si allenano sono capaci di fare procedure interventistiche come i piccoli tumori dello stomaco del colon le polipectomie che altri non fanno senza far danni proprio perché si allenano e questo è importantissimo abbiamo fatto il primo corso l'anno scorso questo anno due quindi dovendo cercare i finanziamenti perché nessuno ce li dà e poi la radiologia interventistica è un altro campo in cui non si può esercitarsi direttamente come avviene normalmente sul paziente ma bisogna esercitarsi fuori della sala operatoria e quindi anche adesso i corsi di ottorino la ringoiatria che avvengono sul cadavere normalmente ma stiamo cercando di produrre anche un modello che possa utilizzare che possa essere utile per esempio sul maiale vediamo avanti ma ci siamo posti la domanda ma tutto questo è veramente efficace serve veramente ecco la risposta la risposta viene dalla collaborazione con l'istituto di statistica della Bicocca di Milano che ha potuto analizzare le risposte a un questionario di 1750 partecipanti ai corsi ecco cosa dicono che era quello che noi intuivamo ma volevamo la risposta di questo quello che ci serve è fare esperienza in sala operatoria con un tutore esperto quindi il tutore esperto che è il percorso che ha indicato Bail prima ma prima ancora di questo prima di entrare in sala operatoria vedete cosa indicano abbiamo bisogno di training di esercizio di palestra e soprattutto abbiamo bisogno in questo momento del modello virtuale in parte ma meno ma soprattutto del modello animale per fare esercitazione ma i corsi ecco l'altra domanda la formazione viaggia per conto su ed è ferma la ricerca viaggia per conto su ed è avanti poi si intuisce qualcosa e si organizza per rispondere i corsi ma sono accessibili? a chi sono accessibili? ecco l'altra domanda i corsi sono finanziati dalle aziende e quindi selezionano i fortunati cioè i privilegiati che loro decidono di portare ai corsi e tutti gli altri che vuol dire che i corsi non sono diffusi guardate cosa avviene in America non è che sto parlando dell'Italia soltanto parlo del mondo in America gli specialisti i giovani specialisti quattro tre su quattro dicono che non si sentono idonei a seguire procedure chirurgiche mediamente avanzate Daniel Scott dice ma cosa di cosa hanno bisogno è pubblico questo dato dice hanno bisogno di esercitarsi perché i resident cioè gli specializzanti di oggi visto il fiume di tecnologia nuova che c'è sono meno competenti di quelli di ieri certo l'evoluzione è avvenuta la tecnologia c'è ma non c'è la possibilità di esercitarsi e allora e allora dobbiamo costruire tanti centri in modo adeguato questo loro hanno pubblicato i dati dei loro morti del loro dramma non si sono vergognati e partono per realizzare la risposta e allora in Italia in Italia è un sistema molto zoppo come qui presento perché ci sono un'assenza di formazione di centri di formazione dedicati ci sono pochi spazi vorrei interrogare gli specializzanti se tutti loro non possono dire che c'è se sono in una seguità di spazi di apprendimento chirurgico pratico e poi la verifica non c'è un sistema vero di verifica l'ICM che colleghi direttamente la verifica all'apprendimento reale che loro hanno fatto quindi è un sistema di questo tipo quindi se noi prendiamo i giovani chirurghi e gli specializzanti il sistema è piuttosto drammatico diciamocelo del resto sono venuto a visitarmi in tanti all'EMS sono venuti anche dei dirigenti da università sono venuto a visitarmi per verificare come portare avanti la formazione degli specializzanti e hanno guardato il modello formativo gli facevo vedere proprio le immagini dell'uomo e del training sull'animale erano a bocca aperta hanno detto però allora dovrebbero esercitarsi tutti ma subito dopo aggiungono e chi paga? cioè in Italia vuol dire che non è messa a budget la formazione c'è che la formazione va innovata e va completata va potenziata eh potenziata rispetto a ciò che è tradizionale non è messa a budget non c'è idea allora volevo parlare di fronte alle istituzioni proprio per dirgli che va messa a budget e perché va messa a budget? ok dico se non abbiamo ancora dati sufficienti per capirlo se non abbiamo dati sufficienti perché è giusto se tu devi spendere i soldi devi avere dati sufficienti per capire che c'è un ritorno allora noi abbiamo fatto insieme a 5 università questa stiamo realizzando questa proposta di uno studio pilota che possa dimostrare veramente il modo scientifico quindi più forte ancora delle pubblicazioni che abbiamo dall'America e dal resto del mondo della utilità di un potenziamento del percorso di formazione degli specializzanti in chirurgia come avendo noi prendiamo un gruppo omogeneo di studenti dalle 5 università delle specialità del terzo anno allora questo gruppo omogeneo di 20 persone viene diviso in due secondo la sorte un gruppo di loro viene sorteggiato tutti fanno lo stesso percorso standard un gruppo di loro per sorteggio avrà 35 ore di esercitazione pratica in 6 mesi nei laboratori guidati da tutori nel laboratorio dell'EMS alla fine come hanno fatto in Ingliterra faranno dei video delle procedure e saranno mandate una commissione terza magari Bailey sarà uno tra gli esperti dei valutatori professor Bailey vedremo se lui accetterà in modo tale che si verificherà poi in blind in anonimato se c'è differenza o no perché se valutiamo che c'è differenza nell'apprendimento e allora noi non possiamo dire che la formazione è uno spreco di danaro e di risorse io credo che le risorse spese per la formazione sono risorse guadagnate non spregate perché danno soddisfattore a tutti i contraenti danno soddisfazione agli specializzanti ai chirurghi perché possono lavorare con più sicurezza perché io non credo che uno vuole lavorare in condizioni come ho detto uncomfortable quindi con un'incapacità di sentirsi sicuri come diceva quello americano io credo che vogliono sentirsi sicuri ma da soddisfazione ai pazienti perché sanno che c'è stato un percorso per offrire loro la sicurezza e non sono abbandonati al volontarismo e poi io credo che possano sentirsi sicuri anche i livelli amministrativi perché questo creerà un sistema che potrà essere considerato dal punto di vista economico più sostenibile noi questo la faremo voleva avere il ministro perché l'EMS la fa ma avrei avuto piacere che questo esperimento a pilota fosse sostenuto sponsorizzato dal ministero perché noi vogliamo dare un feedback al ministero perché su delle basi scientifiche possa decidere come meglio utilizzare i loro finanziamenti io credo che non si può ho detto prima è un fatto cruciale la formazione lo è realmente avete visto quei dati i dati italiani ci dicono che abbiamo 11 miliardi di euro che si legano alle complicanze in medicina quindi dobbiamo riflettere perché sono una quantità enorme di denaro e non possiamo dire che mancano i soldi per fare la formazione lasciare il sistema così com'è grazie a tutti probabilmente per il ministro Lorenzin saranno utilissime le slide del professor Belli sarà utile mandare lo streaming di questo intervento del professor Pugliese dopo queste due queste due presentazioni non è facile proseguire con la conversazione vediamo se riesco a nome vostro a formulare qualche richiesta di precisazione qualche a esprimere qualche curiosità ulteriore inizierei con il professor Belli il professor Pugliese illustrando la sua proposta di progetto pilota al ministero per la salute italiano ha espressamente coinvolto delle facoltà mediche università EIMS si chiama Academy ma qui nello specifico si rivolge a chirurghi universitari le posso chiedere nello sviluppo del MATU supportato dal National Health Service ma qual è stato il rapporto universitario qual è stato il suo rapporto del MATU con il sistema universitario britannico grazie 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 dunque purtroppo la nostra esperienza è derivata da una tragedia come ho detto prima in realtà in realtà non è un'ottima decisione il fatto di raccogliere pezzi dopo ma bisogna agire prima è successo questo il governo è stato il soggetto che ha favorito la creazione delle prime tre reparti che si occupano di questo tipo di programmi in Gran Bretagna i Royal College hanno avuto il compito di intervistare di rivolgersi a dieci istituzioni e alla fine di queste ne sono state scelte tre che hanno appunto avviato questo tipo di formazione il tutto è stato fatto in maniera molto formale e basata sui fatti concreti e dopo queste interviste noi siamo stati prescelti come uno dei tre centri uno dei tre reparti credo sia molto importante che coloro che vengono incaricati di istituire istituzioni di questo genere come il professor Polliese siano le persone più adatte a fare questo tipo di attività perché coloro che formano non sempre sono i migliori formatori ed è molto importante invece che comprendano tutti gli aspetti della chirurgia laparoscopica che abbiano un'equip di medici eccellenti che abbiano la capacità di portare avanti queste conoscenze così come viene condotta questo tipo di chirurgia oggi è necessario avere una sorta di spinta da parte dei singoli ci devono essere dei soggetti che ci spingono e ci deve essere tuttavia una sorta di equilibrio fra questa spinta e la competenza se lo si vuole fare in maniera ufficiale nel nostro paese il tutto viene svolto dai royal college di chirurgia ce n'è uno per la Scozia uno per l'Irlanda uno per l'Inghilterra e il Galles e nel nostro paese questo è il modo migliore in cui conduciamo questo tipo di attività e quindi credo che dovremmo utilizzare le persone già attive in certi reparti per promuoverne di nuovi per mantenere alti gli standard non è importante averne poi così tanti perché vogliamo raggiungere la eccellenza e non è che ci sia tanta eccellenza in circolazione grazie al professor Pugliese volevo volevo proporre una riflessione non di colaterale ma ecco io ho avuto la fortuna di conoscere a Ames Academy il dottor Vladimir Kislov che mi ha raccontato in dettaglio è stata veramente giornalisticamente un'opportunità veramente ricca che mi ha raccontato come lui ha vissuto quello che il professor Pugliese vi ha raccontato nella sua presentazione l'intervento è stato questi interventi il primo ma poi anche altri sono stati eseguiti in questo ospedale che però mi spiegava fa parte degli ospedali della federazione degli ospedali statali diciamo che fanno capo direttamente al governo di Mosca ma ad Arkanges che è sul mare attico quando quando lui mi ha raccontato non solo questo anche questa esperienza molto importante dal dal punto di vista umano la sua amicizia con il professor Forgione il professor Pugliese io ho pensato istintivamente a quello che il professor Pugliese mi ha raccontato della sua esperienza della sua prima esperienza di giovane chirurgo in Uganda e come dire il dottor Kislov mi ha raccontato l'esperienza di un chirurgo non giovanissimo non come era giovane il professor Pugliese quando ha iniziato a operare in Uganda ma ancora giovane credo che aveva meno di 40 anni Vladimir ecco quando è venuto meno e che ha eseguito interventi molto avanzati il professor Pugliese vi ha raccontato come in dettaglio non in Uganda ma in un luogo molto remoto diciamo così ecco io volevo volevo chiedere al professor Pugliese ecco come dire se dal suo punto di vista di formatore poi di Vladimir Kislov come come dire se un intervento così è stato possibile eseguirlo ad Arcangels che molto probabilmente si può eseguire a Campala giusto il professore o no quindi il progetto di Ames Academy il progetto del Matu il progetto dell'Ircad i progetti ce ne sono altri magari poi nell'ultimo giro è possibile riflettere su questo ora come dire una delle delle vie maestre su cui si stanno muovendo i vostri progetti è anche quella quindi di portare la chirurgia avanzata di far avanzare la chirurgia in luoghi inimmaginabili probabilmente ancora oggi giusto no ma in termini molto veloci beh ovviamente non è una magia che si può fare Vladimir è stato da noi con grande impegno perché voleva migliorare parecchio tempo quindi diciamo gli abbiamo fatto fare un percorso di quattro mesi in cui ha potuto guardare perché guardare è importante non è che noi abbiamo cancellato il guardare per imparare no ha potuto guardare ma ha potuto esercitarsi subito dopo perché doveva imparare a utilizzare le tecnologie ma si è addirittura esercitato a essere guidato a distanza perché Antonello gli ha insegnato proprio il percorso del telementoring si mettevano lì uno in una parte uno in un'altra per vedere come lui poteva vedere sul secondo schermo e come far vedere quindi ha usato la tecnologia e poi il suo direttore gli ha preso la tecnologia cioè la tecnologia è uno strumento non è non si muove da sola però lo strumento ci vuole perché altrimenti le cose non si possono fare allora la direzione lì che era in un posto se vuoi remoto Arkhangels però è una città di due milioni di abitanti anche se in Russia però sperduta e quindi con la tecnologia con l'apprendimento che lui ha fatto gli mancava la possibilità di essere confortato di avere il tutore il tutore era il primo lui non poteva avere un tutore in loco non poteva avere un tutore in loco e allora il tutore glielo abbiamo dato attraverso la tecnologia quindi diciamo che si usa la tecnologia e si può usare in futuro questo certo che si può usare bisogna imparare a rendere la tecnologia utile perché spostarsi quante volte uno si può spostare perché poi io una volta per un'altra procedura sono andato a ottobre scorso ad Arkhangels e abbiamo fatto un intervento lì nella sua sala operatoria in modo tale che lui potesse anche fare un processo di apprendimento ulteriore nell'uso di tecnologie nuove per i tumori dello stomaco però ripeto ma quanto volte posso andare ad Arkhangels possiamo collegarci che è meglio capite perché è uno sforzo in mane se no è anche un costo in mane diciamo così quindi si può fare si deve fare bisogna integrare il sistema io ho sempre avuto nella mia esperienza un desiderio che di andare oltre al primo passo che era utile abbiamo girato l'Italia io ho girato l'Italia a operare nelle varie sale operatorie per far vedere man mano che imparavo come si facevano le cose tutti abbiamo girato molto e dopo e dopo ognuno restava lì a casa sua e doveva esercitarsi io ho avuto l'opportunità perché ero a niguarda di esercitarmi in anatomia patologica poi di andare all'estero nei centri che c'erano di andare a Lirica di incontrare il professor Belli molti non ce l'hanno e allora poi li abbandoni da soli o crei delle condizioni allora è l'istituzione che può creare condizioni realmente estensive può decidere che tutti devono accreditarsi e fare un percorso io non posso deciderlo io posso sostenere come secondo ma l'esperienza che abbiamo fatto indica la strada è per questo che parlo all'istituzione perché cinque anni di esperienza secondo me indicano la strada per cambiare il modello formativo potenziarlo non cambiarlo nessuno deve aver paura non voglio prendere il posto di nessuno sono anche in pensione quindi non voglio prendere il posto di nessuno quindi il modello attuale deve potenziarsi se veramente seriamente vuole formare e vuole dare sicurezza altrimenti continueremo così e fra dieci anni saremo allo stesso punto dicendo che avremo grandi specchi 11 miliardi continueranno le perdite e i soldi non li avremo usati efficacemente e utilmente come spesso accade in tutto il mondo e anche qui da noi in un mondo che soffre tantissimo noi buttiamo le risorse non ce lo possiamo permettere questo è che voglio dire quindi dobbiamo incominciare ad essere seri il professor Belei nella sua presentazione ha avuto una grande attenzione nello spiegare come il Matto ha sviluppato i sistemi di monitoraggio e di scoring e per me è stato molto interessante poi ho avuto la fortuna di poter conversare settimane scorse personalmente con il professore perché come dire nel momento in cui il professor Matto ha illustrato cosa fa il professor Belei scusatemi ha illustrato che cosa fa al Matto il professor Pugliese che cosa fa a IMS Academy come dire è intuitivo credo che nessuno nessuno di noi nutrirebbe dubbi sull'utilità sull'utilità di quello che viene fatto il professor Belei invece ci ha spiegato in dettaglio che una che una delle attività principali al Matto è lo sviluppo di programmi di valutazione quindi di verifica statistica scientifica che la formazione produce risultati effettivi misurabili e ce li ha illustrati con gli istogrammi che tendono verso zero e quello è come dire tendono verso zero su che cosa sugli errori sulle morti sui tempi di dismissione sui costi sopportati per la chirurgia non effettuata come si deve quindi ed era su questo che chiedevo cortesemente al professor Belei un un remark una sottolineatura i i test la verifica statistica il monitoraggio lo scoring che è poi quello che il professor Pugliese intende iniziare a fare in Italia dove ce l'ha detto in maniera dura non si sta facendo niente non si sta facendo assolutamente nulla di quello che invece in Gran Bretagna grazie anche all'attività del matto viene fatto quindi la verifica statistica il monitoraggio lo scoring i test sono fondamentali per lo sviluppo del training chirurgico grazie anzitutto magari quello che dirò sarà un vero e proprio shock per il pubblico però ci sono degli standard molto diversi fra i chirurghi ci sono degli chirurghi eccellenti chirurghi bravi chirurghi non tanto bravi e ci sono alcuni chirurghi che effettivamente che non hanno il coordinamento occhio-mano di cui avrebbero bisogno per la laparoscopia per cui se non c'è un sistema di testing e se tutti hanno la libertà di andare a fare quello che vogliono che fino a qualche tempo fa in realtà era la prassi ci possono essere delle vere e proprie catastrofi come quelle di cui vi ho parlato nelle mie presentazioni quindi occorrono degli standard e questi standard devono essere standard misurabili lo si può fare si può iniziare con giovani chirurghi si può andare a misurare la velocità dello strumento se lineare o se circolare magari come si è visto nella presentazione ci sono persone che sono più specializzate magari che sono già state abituate a effettuare interventi di chirurgia all'intestino o allo stomaco questi medici devono sostenere e superare degli esami e se non li superano non possono esercitare non possono operare ovviamente questo va a limitare la libertà di questi medici ma è molto importante che ciò accada quindi per rispondere alla sua domanda dobbiamo essere in grado di misurare la performance e questo è un qualcosa che dipende sì dal tempo e dai numeri ma soprattutto dall'eccellenza nell'esecuzione degli interventi ora siamo in grado di misurare gran parte di queste cose per cui non è un'impressione è una realtà grazie 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 professor Belli l'ultima domanda al professor Pugliese probabilmente non dovrebbe essere tale dovrebbe lasciargli la parola anzi in ogni caso gliela lascio per però come dire immaginando immaginando che come dire virtualmente sia con noi o che in ogni caso questo avverrà sicuramente dal meeting le saranno fatti per venire tutti gli spunti tutte le sollecitazioni emerse questa mattina immaginando che il ministro sia qui o comunque sappia io chiederei al professor al professor Pugliese prima diciamo delle sue conclusioni una riflessione che poi credo sia condivisa anche con il professor Belli quindi Mattu Ems Academy Lircad i centri tedeschi gli Stati Uniti c'è un network sta nascendo è nato si sta sviluppando si sta consolidando un network un network globale per lo sviluppo del training chirurgico d'eccellenza e la Gran Bretagna con il Mattu ne fa già parte l'Italia ne fa parte ma vuole farne parte a pieno titolo con Ems Academy l'Italia ne fa parte perché abbiamo un rapporto i network nascono per le relazioni che ci sono tra le persone perché se non ci sono relazioni non c'è network non è una roba che nasce perché nasce nasce attraverso le relazioni io ho incontrato Maresco ho incontrato il professor Belli ho detto che siamo amici abbiamo degli amici in Russia che sempre si collegano con noi per far vedere le eccellenze perché ci sono dappertutto noi e quindi le presentano con la Germania abbiamo con il Giappone Tanegawa avete visto l'immagine con c'era nell'immagine John Marx e Tom DeMister che sono in America Tom Scalè è in America Daniel Scott è in America e dice che bisogna aumentare il numero dei centri lui è venuto da noi Antonello è andato lì insomma abbiamo delle relazioni che ci permettono di considerarci in rete perché coltiviamo una comune passione e una comune responsabilità cioè noi se non ci sentissimo responsabili di quello che facciamo e se non ci fosse una relazione sarebbe impossibile diciamo che all'inizio questo era un manipolo di pionieri di questa cosa di pionieri che volevano dar serietà a un contenuto che altrimenti a un processo che sarebbe andato avanti in modo volontaristico allora cercare di razionalizzare e di regolamentare loro hanno avuto la fortuna in Inglaterra che le istituzioni e il governo ha fatto una domanda che ciò avvenisse e loro sono stati rigorosi per rispondere a questa domanda noi non abbiamo avuto nessuna domanda l'abbiamo fatto anzi abbiamo forzato dovuto spingere molto e ho trovato degli amici va bene in questo percorso in regione Lombardia e nell'ospedale di Niguarda quindi che hanno reso possibile ma perché sono sempre relazioni ma però c'è bisogno che una domanda l'esperienza susciti uno stimolo da cui nasce una domanda noi esistiamo per questo se un pioniere fa un'esperienza è chiaro la fa e deve per provocare perché attraverso l'esperienza si pensa di poter essere utili come dice il meeting io voglio essere utile all'altro perché l'altro è utile a me perché sennò cosa me ne fregherebbe se non lo concepissi utile a me allora questa relazione noi vogliamo essere utili e provochiamo provochiamo anche le istituzioni perché le istituzioni prendono su serio l'esperienza devono andare a scovarle le esperienze positive perché ce ne sono tante in Italia ma e fanno invece e questo è il loro mestiere il mestiere della politica è scovare il positivo per prendere spunto per allargare l'orizzonte cioè per farlo diventare diffusivo altrimenti spesso noi sentiamo ragionare e in modo molto dialettico molto più sul potere che sulla necessità di essere utili il potere è al primo posto purtroppo il dibattito sul potere mentre dovrebbe essere al primo posto il bene comune e quindi ci vuole umiltà perché il bene comune sia al primo posto io oggi vedo nella politica quello che manca è proprio l'umiltà perché l'umiltà ti fa vedere l'altro eh ma prima di tutto te stesso con un po' di ironia non hai la soluzione dei problemi in mano e non ce l'ha nemmeno altro allora dobbiamo guardarci con umiltà e collaborare perché ogni cosa è un tentativo capite allora se uno è così si lascia interrogare e la domanda provoca un tentativo di risposta partendo da dove dalle esperienze che ci sono e le vai a cercare e dalle esperienze che fai nascere perché ne hai bisogno tu che devi pensare al bene di tutti questo è quello che io penso grazie io io ringrazio tutti e tutti voi sicuramente i due relatori io come dire approfitto del fatto che fortunatamente non sono il ministro e non sono un politico perché il ministro credo che oggi avrebbe come dire preso doverosa nota ma non so non so professor Pugliese se avrebbe potuto preannunciare un interesse immediato per la tua proposta io che non sono il ministro invece nel salutare nel nel salutarci formulo stride l'augurio che al prossimo meeting possiamo parlare di questo progetto quanto meno in corso se non addirittura concluso grazie a tutti grazie